Per me è una bella piazza, molto seria, molto con bella gente, grande, gente del paese, che si rende via e che la gente non è via, è un bello riscorso, è regola, si è parlato solo di regole oggi, ogni uomo si pica la responsabilità di sua e quando sbagliano si deve fare, ognuno che vuole, e ne rispondete ne sta a voler ecco, se recitiamo noi stessi, rimettetevi fuori a uno, ma può essere il tuo frate, il tuo cugnato, il tuo cucino, ecco, sono regole ferre. Ecco, io ho visto persone serie, ho visto belle persone, pure io ci sono persone serie, parra picco, non so parra poco, è stato malato. Che siete scema, però? No, io te lo dico, non potevamo parlare, qualcuno parlava solo, o parlava ricche, non si può fare, certo, ma lo sai com'è? Se scemi non stessi tutto insieme, su me ne lo lo facciamo tutti, no, rip �venne tutto insieme, non c'è, no, una, una, una. Ma il tuo cugnato è tutto, ma io faccio la parola, però sì, sbaglio, la cosa si sa, mi sembra, Non c'è un po' il mio pensiero, ebbenico, l'errore quello che lo faceva a chiedere, se uno non vuole accettare, si assumono le conseguenze e guardare. Siamo tutti alla stessa maniera fino a quando, tanto il capo è il palermo. Non ci sono ancora consiglieri, sempre ci sono. C'è tutto, c'è tutto. Questo è un personaggio importante che continua ad avere veramente tutti i vecchi, morti e arrestati. Lo pensano a morire. Avevamo una persona che doveva morire davvero burocchissima. Ed è pure il capo di questo grosso fratello che abbiamo. E sicuramente non sarà inquieto. Se vuoi, si comporta bene. E non sarà inquieto l'altro. Sì, ci mancherebbe. Se ne faccia pagare le figlie. Se ne faccia pagare le figlie. Io, fino a oggi, non andiamo a parlare male. Più tutte le capereciano che ci lavaggiano. Tranquille. Li tratta bene, mi capisco. Comportandosi bene, gli ha un vantaggio. Se ne faccia pagare i nostri figli. E nessuno stava a prendere. C'era un c***o. C'era un c***o. Se ne faccia pagare i figli, non c'è il riguardo. C'è manco. Ecco. E poi vediamo a avere pure qualche altro bisogno. all'in house care皆 c플 talka. All'in house Io! All'inizia che faccio alo anche lì. L'ilde**o, come andFPium Medano. Zia un sacco. All'inhuari. Mancunteriamo lì da pastora piang新 50 g. All'inizia si chiud civilica. All'inizia si chiudiza lì работать. All'inforza e lavorare. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Ma un sabbio, un leviso. Un leviso hanno? No, vabbè, ma l'impegno non è vero. Si. E' caendo a tipo un menzino, se vuole la ruota. Si. Ma ci si come vuoi tu? Ma l'ha detto, Andai. Chiaaa... E' molto. E' un po' l'evoaggio. E' un po' l'evoaggio. E' un po' l'evocio. Soll'evoaggio. Che ne va era perché? E' sembravaivare. E' una presa senza那個 e befalla. Fai concerns